Stiamo presa! Missione compiuta! Stava costruendo un nido, la poiana ha diventato ormai famosa da Anghiari come il rapace ladro di cappelli e proprio per questo avrebbe dato la caccia ai copricapo per renderlo così più caldo e confortevole. È stata finalmente recuperata la poiana dopo due settimane in cui aveva seminato il panico tra i cittadini con una quindicina di attacchi ed altrettanti cappelli rubati ai passanti. A recuperare l'animale, due falconieri che da una settimana erano sulle tracce dell'uccello che armati di una rete da cattura e di altre due poiane della stessa razza sono riusciti a catturarla. Noi abbiamo iniziato il lavoro lo scorso lunedì. È stata recuperata la poiana utilizzando una coppia della stessa specie come richiamo e applicando alla finestra del balcone dove era solita appoggiarsi e tentare di entrare in questa casa applicando a questa finestra una rete a doppio tramaglio da cattura. Ecco una straletto fine, adesso dove andrà questa poiana? Allora attualmente verrà presso di noi